Ben trovati un aggiornamento con la nuova settimana quando l'anticiclone da ovest raggiungerà l'Italia. Da ovest ci sarà questa buona anticiclonica, dalla Spagna, dalla Nord Africa, bel tempo su tutte le nostre regioni con ampi rassernamenti. Solo in montagna qualche locale temporale sulle Alpi settentrionali e lungo la dorsale appenninica. Le temperature saranno comunque estive ma un caldo piacevole e moderato nella prima parte della settimana, poi probabilmente da giovedì in poi il caldo si farà intenso ovunque. Tutti i dettagli precisi scaricando l'app di Trebi Meteo.